Ciao ragazzi, pronti? Siamo qua ad Azaifu, la quest è il torpore della pietra dello spirito. Partiamo dal primo santuario. Anche stavolta non andrò molto veloce. Il primo, eccolo là, sul ramo, sul tronco anche. Ciao, torniamo indietro e passiamo qui. Dietro la casa troviamo il secondo. Ecco. E dietro quest'altra troviamo il terzo. Eccolo lì dietro. Andiamo in questa direzione. Passiamo oltre il boss. E qua giù. Vicino al grosso albero che porta sopra il tetto. Eccolo lì dietro. Questi erano i primi quattro. I secondi quattro dopo il boss. Dopo Nue. A tra poco. Una volta sconfitto Nue, la porta alle nostre spalle si chiude. E noi proseguiamo con i codano. Il quinto è qua dietro. Ecco. E scendiamo. Prima ancora di aprire tutte queste porte, ecco il santuario, perché volendo si potrebbe fare altro passaggio. Qui a sinistra. Qui a sinistra. Attenzione qua al pavimento. Ed ecco il sesto. E poi andiamo in direzione del prossimo santuario. Eccolo laggiù. Però noi giriamo. Questo è il penultimo. Su e salita. Qui è dove troviamo le due sentinelle. Una e una. Sempre diritti. E qua dietro troviamo l'ultimo. Eccolo. E qua si ritorna per il santuario. E da qui possiamo sbloccare le porte. Ecco qua la famiglia al gran completo. Tutti e 25 della regione di Chiuscio. Quindi per questa regione abbiamo terminato. Vediamo un po'. Tutti presenti. 25% rilascio dei materiali. 25% di un elisir. 5% di una corazza. 5% di un'arma. E 25% da qualità di ambarita ottenuti. Per questo video è tutto. Ciao ragazzi. Ci sentiamo alla prossima. Spero che possa esservi d'aiuto. Ciò che avete appena visto. Un abbraccio. Bye bye. Ciao. herme. Ciao. Ciao.